professionisti l'eccellenza mondiale e qui siamo veramente nell'eccellenza mondiale che stiamo vedendo quest'oggi noi qui vediamo degli aerei meravigliosi lei ha volato su con l'imposte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un MQ-9A Predator Bravo in dotazione a 32esimo e scopo di avventura. Quarto guarda su col sign. Pensate, il pilota e il sensor operator non sono a bordo, ma in una stazione di controllo. Una cabina di pilotaggio statica che si trova a terra e può essere anche a oltre 1000 km di distanza. Questo velivolo rappresenta una sfida accettata e vinta già 20 anni fa dall'aeronautica militare. E' stata la prima forza armata in Roma a introdurre l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto. E' come dicevano subito qui, gli elicoteri HH-239 e HH-212. Una curiosità, la doppia H è iniziale, la sigla sta per la sigla dell'elicotterio 139. Per cui è un'attesa di 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 un'attesa. Subito indietro, altra formazione di elicotteri. E' più inizio composta da elicotteri TH500. Questo elicottero con turmina in dotazione al 72esimo stormo di Crosinone ed è impiegato prevalentemente per compiti di collegamento e soprattutto di addestramento per i piloti destinati ad Alar. E ancora elicotteri in arrivo dalla nostra sinistra, una formazione composta da 6 H H 101 SESAR, anche strumenti di intervento di Alar. Questo elicotteri in avanti a misura, anche strumenti di un'operazione ateneo per il ponte aereo, se si può evituare i profili amigani dopo il trottorio. E' un'operazione aeree per il ponte aereo, esplorato da operare a bassa quota e in qualsiasi condizione medio. impiegato dal quarantunesimo storico di Sicunella prevalentemente per poco come sapete, probabilmente che c'è un po' di voi perché sarà iniziata a un lavoro di persone inimminente per un uomo di vita quando viene richiesto l'equipaggio è pronto a partire in pochi minuti perché quando è in gioco la vita umana non c'è tempo da perdere e anche per tutti in realtà non c'è un dato c'è un dato che ci sarà con tessime altre azioni di scenari internazionali compreso la fiazza e bravo, bisogna di suono, di supporto ricondizionale ricondizionale